Vabbè, lo vedi che io ho fatto così, vabbè poi ho messo l'oggetto, la relazione, la firmo messo io, secondo me sta bene. A questo rapporto è tutto sbagliato. Come sbagliato? Appena leggo un fesso si mette a ridere. Infatti lo vedo. Adesso l'ho capito meglio. Momò, pure un fesso, l'ho leggermente a ridere. Solo un fesso. Grazie bene.